A Montorio Alvomano, Alvia, in canto di Natale, una rassegna di concerti. Otto gli appuntamenti in programma con la musica di qualità dal 19 dicembre al 6 gennaio. Mercatini, spettacoli di teatro e intrattenimento per tutte le età al centro del cartellone. Saranno dei giorni importanti perché avremo delle situazioni sicuramente sopra la media. Avremo Piermarini che suonerà l'organo della chiesa di San Rocco che è l'organo più antico di Abruzzo. Quindi invito tutti a quella giornata perché andremo chiaramente a far suonare uno strumento che da tempo è bloccato e che comunque ha la sua importanza storica. Proloco ci ha dato una mano per la realizzazione e fa da capofila per quello che sono le associazioni. Ripeto, grande importanza per i privati che ci hanno dato una mano importante oltre al BIM. Va ringraziato chiaramente sempre il Presidente Franco Iacchetti, sensibile a quello che è il discorso della cultura sul territorio. In quest'ottica abbiamo creato un calendario che sicuramente andrà a soddisfare un po' tutti i palati, anche quello dei bambini perché ci saranno anche dei teatri appositi per i più piccoli. Una giornata di Babbo Natale, quindi tante cose che poi andremo a sviscerare nello specifico su quelli che sono i manifesti che abbiamo già preparato e quindi anche dal punto di vista della grafica e di internet dove ci muoviamo anche molto su Facebook e sui social network. È il secondo anno che la Proloco di Montorrio è impegnata in questa attività natalizia che è una delle attività che la Proloco sta portando avanti da tempo e quindi abbiamo raccolto l'invito dell'amministrazione comunale affinché venga realizzata la manifestazione il migliore possibile coinvolgendo anche le altre associazioni e degli sponsor privati. Quindi abbiamo cercato di mettere nel cartellone, oltre agli artisti locali, anche talenti oriunti montoriesi.